L'acqua è stupenda Signor Crane, ho iniziato la settimana scorsa, volevo presentarmi So bene, chi sei? Una ragazza ambiziosa con brillanti prospettive Tu hai avuto un inizio difficile, giusto? Non permettere a nessuno di rinfacciarti il tuo passato Finalmente mi sembra che la mia vita abbia un senso, uno che mi piace, anche la mia Ha una casa veramente stupenda Ti va di bere qualcosa? Mia moglie è molto orgogliosa dei suoi cocktail Lei è Claire, la mia nuova assistente Claire, lei è mia moglie Posso sapere che succede? Questa mattina una cameriera ha trovato i segni di una possibile aggressione nella stanza di Crane Sangue, segni di lotta L'ultima volta che l'ha visto? È venuto fuori che la sua fedina penale non è esattamente immacolata Ho visto il suo estratto conto Sono anni che accumula capitali Hai detto a Scott di noi due? No L'ha saputo Stai diventando paranoica Non abbiamo niente da nascondere Forse è l'arma del delitto È l'ultima che l'ha visto Mi è incastrata Per te è troppo pericoloso È tutto troppo pericoloso Per te è troppo pericoloso Questa mattina si la conc Tutto Ezra Grazie.